Una docente ha invitato alunne e alunni ad indossare abiti decorosi per andare a scuola. È giusto mantenere un'etichetta nell'abbigliamento scolastico, secondo te? Allora, secondo me non esiste esattamente un'etichetta, perché comunque i tempi evolvono e per carità. Però a volte mi capita di vedere dei ragazzini, eccetera, secondo me un po' di regole ci vogliono, perché le regole educano. No, credo di no. Credo che sia giusto che ognuno si esprima come voglia tramite l'abbigliamento. Questa è la mia opinione. Quando andavo a scuola a lei c'era la professoressa di matematica che diceva alle ragazze di o alzare i pantaloni e tenere la maglietta corta, oppure di allungare la maglietta e tenere i pantaloni a vita. Un po' per me anche giusto comunque, ecco. E ai ragazzi so che diceva di mettere i pantaloni lunghi, non da spiaggia. In segno di rispetto alla fine. Sì, perché insomma si insegna questo a scuola, quindi è giusto così. Credo che nella forma ci sia il rispetto verso se stessi e verso l'istituzione scolastica e verso gli insegnanti. Quindi davvero sono grata a questa dirigente scolastica che ha avuto il coraggio di dire una cosa nell'interesse e nel bene dei ragazzi.